Sono Frassi Luca, io mi occupo prevalentemente di costruzioni di tutti i fondi equestri, di qualsiasi genere, da monta inglese a monta americana. Ci occupiamo della manutenzione, realizzazione, progettazione, messa in opera di tutti i tipi di fondi in Italia, in Europa e nel mondo. Se il cavallo appoggia su una superficie corretta e per l'allenamento quotidiano e per il proprio momento di gara, noi siamo soddisfatti. Però il cavallo deve stare bene, perché il cavallo è l'attore fondamentale di questa disciplina. Se parliamo di saltostacoli, ma anche se parliamo di dressage, reining o tutte le altre discipline che dir si voglia, non deve avere possibilmente traumi. Deve trovare una superficie non troppo morbida, ma neanche troppo dura, perché anatomicamente non ne deve risentire. Dobbiamo darci da fare di più sul futuro per formare veri uomini. o donne che siano di cavalli, perché la loro visione dell'equitazione non sia ferma al puro salgo, faccio la gara, scendo, prendo e metto via il cavallo. No, devono avere una visione a 360 gradi e anche per i campi, perché se loro riescono a interpretare queste piccole, ma poche nozioni, comunque basilari, riescono a interpretare proprio a tutto tondo la loro visione del mondo equestre. Prima c'erano due, tre tipi di sabbia, adesso arrivi a 40, 50 tipi e ogni tipo ha la propria peculiarità e una cosa fondamentale e particolare che facciamo è, rispetto al passato, formare e per imparare ad effettuare la manutenzione nel modo corretto. Con questa esperienza i ragazzi candidati avranno a disposizione dei tecnici qualificati e specializzati che offriranno la propria competenza e cercheranno di estrapolare dei concetti semplici ma fondamentali per la loro crescita professionale. Questo sarà l'obiettivo fondamentale, l'obiettivo principale e soprattutto cogliere l'attenzione, farli sentire parte integrante di un progetto, farli vivere il progetto anche sul campo stesso se serve. Grazie.